Ah, ci sono questi dietro le quinte pubblico in sala che freme e spera di vederci presto, ma noi ci stiamo ancora preparando, adesso andiamo a vedere cosa si fa dietro le quinte, andiamo! Esercizi di riscaldamento! Perché il cielo è la ruota? Terri, ma che cosa c'è qua? Perché? Sì! Sentite il bruciare dietro? C'è il pubblico che ci attende e acclamano tutti Stefano! Pronto! Un saluto? A tutti!